Interrompiamo le trasmissioni per dare notizia di un filmato appena giunto in redazione. Come si vede da queste immagini amatoriali, sono state rinvenute delle impronte umane incredibilmente grandi. Sul luogo sono giunte le forze dell'ordine, che mantengono il più stretto riservo sulle indagini. Destano preoccupazione una camicia strappata nei pressi delle orme stesse e l'urlo disumano che si sente alla fine del filmato.